La prima domanda che ci poniamo è qual è la differenza tra un concept di innovazione e un concept di cari? La prima domanda che ci poniamo è qual è la differenza tra un concept di innovazione e la prima domanda che ci poniamo è un concept che è mostrato in un'autoshow Qualcuno ha un'idea? Qualcuno ha un'idea? Allora, forza Il signore che si è fatto la foto Hai un'idea tu, caro Castagnetta My dear Castagnetta I took the photo next to my picture Tiè, te faccio pure questo Ma anche il cucetto per lo lungo Quindi anche a te, la barba sta crescendo Io l'ho tagliato Allora, forza, chi è che mi dice una differenza? Le parti standard Le parti standard Che vuol dire? Tutte quelle serializzate Per esempio i cerchioni, le ruote Tutto quello che è lo standard rispetto a quello che è più fantasioso In Francia, in poche parole ho utilizzato l'immagine della Twisi perché dovete sapere che il progetto Twisi del quale sono stato responsabile è il primo progetto che in un'epoca non sospetta ha mostrato all'azienda che in un anno di tempo si poteva realizzare un progetto con un'equipe piccola con una mini piattaforma quindi con un direttore di piattaforma che aveva il budget e poi con quattro rappresentanti di quattro famiglie particolari marketing, prodotto, design, ingegner che si poteva realizzare un prodotto credibile conoscendo tecnologia conoscendo più o meno i costi conoscendo i tempi nel volerlo eventualmente renderlo producibile e quindi poter presentare al nostro presidente a Carlos Ghosn un prodotto e dire guarda guida se vuoi cioè si può dire let's do it and we can do it so this is exactly the great example where we can show with the Twizy that here there is a small team that made a project in one year time knowing more or less creativity knowing technologies knowing the cost knowing how how many hard points we would have encountered if we would put this in production and basically we can put together from first sketch to final running prototype after even a simulation of crash test what it meant eventually for our president to take the decision top management to take the decision to take this project and bring it to production a destra abbiamo il concept on the right we have the concept the concept has been used mainly with of course a little bit more freedom with lots of more creativity but as you can see always in the respect of the design concept okay so it's it's meaning it's a mission la mission del concept è un'altra it's another thing what's it's what's the mission of the concept anyone if we have to announce before the production model something that production model what type of operations are we making che operazioni stiamo facendo quindi nel voler annunciare bravo le reazioni della gente comune ma anche le reazioni del pubblico specializzato giornalisti altri designers le altre aziende insomma tutti no e l'opportunità di realizzare un concept che annuncia è tutta un'operazione estremamente importante with a lot of value it's an important presentation that has to give value to what is coming out what will come out in a few years quindi Tweezy che è stata annunciata con questo concept fantastico tra l'altro ha fatto gli stessi designers che hanno che ci hanno aiutato a fare quella originale quindi noi che era insomma la stessa famiglia che anche se questo non sono stato io che me lo sono occupato ma è un altro collega chi è responsabile di concept car è stata l'opportunità effettivamente di far capire al mondo intero guardate che Renault lancia un messaggio ed è un messaggio importante voi sarei i primi a venire fuori con una gamma di veicoli elettrici perché ci crediamo seriamente e Tweezy che è un veicolo particolare perché crea una nuova nicchia di mercato è il primo di quattro veicoli che noi ci impegniamo questo è stato un grande annuncment che il presidente in 2007 a Gini Varo show dove potrebbe annunce che Rimmuol era il primo carmaggio che potrebbe in produzione un whole lane di car exclusively electric e questo è stato un'importante annuncment perché no altro carmaggio was making the same thing con questa slide vuoi capite che cosa vuol dire un pochettino fare dell'R&D so with this slide we understand what it means to do research and development in design 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 is basically R&D is a small team that is made of engineers designers to which I belong marketing people so the question is why do we innovate anyone per essere più avanti più differenzi rispetto a quello di facere la scuola ok quindi per creare più competizione competition alternativa anyone else per migliorarsi sempre di più ok to be always better reinforce the brand this is very important Renault has been the first one and will be the first one in the history of recent history that has a full range of cars full electric this is a strong message and we did it so we reinforce the brand la creazione del valore questo è fondamentale in un'azienda every time we can create value in a company it's incredible because we we creating business for the company companies are there to make money not just for passion making a nice beautiful car sexy and making happy you that one day we will have the chance to buy source to make money there are a lot of people working in the company the company has to earn money to make sure that it's gonna not lay off people because they're not making money because their business is not how do we create value? come si crea valore? con l'innovazione con l'innovazione e quindi siamo vicino creando qualcosa di differente so we can create something different to create value but he creates something different how do I do? it's not just a question of creativity I know how to sketch I'm in my house I make a nice creative sketch I come I come to my boss hey look at this I create value it's not quite like that bravo new solution for public transportation this means what? it's connected to what? making new solutions new solutions but to make new solutions what do we need? new problems cosa? new problems no new problems I go home I have a problem oh I give you new solution that's creating value what value that have more problems? eh? castagnetta wake up te tocca ma fatta la foto ma vedi rispondi no prometto che non esagerare new solution is what? new problem come ti chiami? ricco tecnico ok allora lui alzi dagli piedi alzi dagli piedi stand up stand up applauso nuove tecnologie new technology if we don't have new technology how the hell I'm going to create new solutions and if I don't have a new technology that gives me the opportunity to save some money because the new technological problem can be solved in a cheaper way so that my company can adopt a new solution and make maybe profit a better profit I don't want to say just profit but a better profit then you have the solution ok? quindi se vogliamo fare un resume no? di quello che abbiamo detto ricerca, sviluppo e design esiste in un'azienda cioè l'azienda mette soldi per una unità del genere so the company puts money invests money for such type of unit to give value to the brand più valore al brand to make sure that the strategy is respected and reinforced qui abbiamo la margherita che ormai è celebra sul canale Pinterest di Remo ci sono tutte queste immagini bellissime che spiegano bene questa è la margherita che ha portato Lawrence quando è arrivato da noi e poi essere certi che abbiamo dei nuovi targets quindi nuove minchie di mercato delle nuove opportunità creare delle nuove opportunità per fare business quindi nuovi target e l'iniziale di tutto questo genera dell'innovazione